Buonasera e bentornati con un nuovo video del canale, sto provando a reinventarmi, provando a portare nuovi contenuti. Questa volta per voi porterò una finale della Blackie Cup che sto commentando per voi adesso in diretta. Maestro Squad contro Suchuk che sarebbe l'altro ragazzo dell'Ipsia. Molto interessante, non c'è Berriang questa notte ma comunque una partita di alto contenuto. Guardiamo qua la squadra, solida difesa, Mendy, Varane, Pope e Walker con Tavernier ibridato insieme a Rashford Peak. Insieme a lui abbiamo visto anche Ronaldo il Fenomeno, Viera, Mbappé e Cristiano Ronaldo. Andiamo a vedere quindi Suchuk in maglia viola contro Maestro Squad in maglia bianca. Se non erro, il giocatore in viola gioca con il 5-3-2. Andiamo a vedere se si confermerà, almeno così aveva giocato in semifinale. Invece Maestro Squad ancora non ho capito bene in che schiera metto. Ora cerchiamo di vederlo insieme. Qua Bruno Fernandez cerca la palla per Ronaldo. Gullit a limite dell'aria, si gira un paio di volte. Passaggio ancora di centrocampisti, vediamo come è però aggressivo. Varane con la difesa molto alta, cerca di non farlo entrare dentro l'aria e la strada. Guardate qua comunque la difesa 5 come è alta. Tavernier terzino, prova a guadagnare campo. Cercherò di fare un misto tra telecronaca, commento e anche se possibile un'analisi tecnica. Qua subito un'occasione incredibile per Cristiano Ronaldo che sbaglia la posizione veramente favorevole. Qua era un cross di quelli baggati con R1. La palla è rimasta là e Ronaldo purtroppo per i giocatori. Alla nostra sinistra non è riuscito a insaccare. Andiamo a vedere qua invece l'azione del maestro squad che però si concretizza con un nulla di fatto. Qua non ho capito cos'era un L1 triangolo probabilmente. Ecco, sta andando a scatti molto bene. Proprio non ci voleva in finale. E' andato tutto bene. Un problema di connessione probabilmente del nostro Blechi. Vabbè, qua che vince un rimpallo. Poi di fisico, splendidamente con L2 allontana Mendy. Si gira e si rigira. Costitza a tornare indietro. Palla al primo mediano, secondo mediano. Palla alla punta. Però torna indietro perché la difesa qui a 5 schierata perfettamente e anche molto alta. Qua però se ne va splendidamente maestro con un tentativo di tunnel. Quelli con L1 e R1 analogico destro. Poi viene atterrato da dietro da Wolfe. E qua probabilmente cambia completamente la partita perché rigore e espulsione. Anche separato, comunque, il giocatore in casa dell'Ipsia è costretto sicuramente a cambiare lo schieramento. E la partita sarà completamente diversa da questo momento. Andiamo a vedere quindi Rashford. Un inserimento buonissimo perché sia Ronaldo. Si ferma e prova ad accentrarsi ma viene fermato perfettamente da Baranna. Andiamo a vedere comunque qui. La partita rimane sullo 0-0. Vabbè prova a prendersi il campo sulla destra. Comunque molto interessante come magari non avete visto le partite dei turni precedenti. Ma questo tentativo di tunnel. Ancora ecco un'altra volta con Cristiano Ronaldo proprio mentre vi stavo parlando di questa cosa. Col tentativo di tunnel si porta la palla perfettamente per il tiro. Prende lo spazio giusto con 4-4-2 sta giocando. E insacca all'angolino sinistro. Quindi 1-0. Quindi vi stavo dicendo col tentativo di tunnel molto spammato soprattutto in questi Pro vs Pro. Cercate di impararlo anche voi a casa. Io personalmente lo uso però sicuramente non quanto lo stanno usando questi giocatori. E soprattutto... Ah questo è Ronaldo Toti. Vabbè un discorso a parte magari con Ronaldo Toti. Però comunque io ci riesco solo con i giocatori di bassa categoria. Già per esempio per dirsi contro un oro 1 faccio fatica a usarla questa tecnica. Perché è molto molto difficile. Bisogna prenderci la mano. Invece guardavamo su Ciuc. Comunque sotto di un uomo ha messo la difesa a 4. Con Vierati in storia centrale. Non capisco dove va il buco in questo momento. Magari cercheremo di capirlo piano piano con l'andare della partita. Magari al secondo tempo. Vediamo se c'è una sorta di reazione. Tattica del fuorigioco comunque del giocatore in casa. L'esco del giocatore alla nostra destra che è maestro. Vediamo qua addirittura c'è un Ronaldo sulla fascia sinistra. Non ho capito bene questo schieramento. Vabbè non ci sbilanciamo per non fare gaffi inutili. Però un 4-4-2 diciamo improvvisato in questo momento. Il giocatore sotto di un uomo e anche sotto di un gol. Qua maestro non ha nessuna fretta. Sta in vantaggio e sopra di un uomo gestisce palla a centrocampo. Con molta calma suola di Bruno Fernandes. Si gira un paio di volte. Poi decide di tornare indietro al terzino. E ancora continua con il suo possesso palla giustamente. Ancora Ronaldo che però qua tenta una verticalizzazione di troppo e va a sbattere il suo difensore. Però guardate anche con che fretta sta giocando adesso il giocatore. È probabilmente molto innervosito. Blackie se la riede da sopra. Però immagino a vedere il Sucuk molto innervosito. Ricordiamo che secondo i pronostici era favorito. Io stesso ho puntato 50 banana points. Non so come si chiamano i punti canale di Ripley Kickup qui su Twitch. Sul giocatore in maglia viola. Però 50 banana points non sanno nulla. Li perderò perché per come sta andando la gara non credo che riuscirà a rimontarla. Ma vediamo ancora un doppio passo di Cristiano Ronaldo. Ronaldo che si gira ma poi non trova lo spazio per il tiro. Ancora Tavernier sulla fascia. L'azione per forza centrale perché a sinistra sembra che non c'è nessuno. Adama cdc. Ronaldo punta sinistra. Sì sicuramente ci avrà il buco a sinistra. Sulla fascia a sinistra dell'esterno sinistro di un 4-4-2. Qua attenzione poteva esserci lo spazio per trovare la conclusione in aria. Ma viene chiuso perfettamente da maestro indipeso. Quindi vediamo anche le statistiche del primo tempo. Ma ci interessano il giusto perché quello che conta è quello là. Cartons, Rouges. Scusate per il francese. Ma è quello che purtroppo fa la differenza. Una finale decisa comunque da un'espulsione per il momento. Anche se poi il calcio di gore è stato sbagliato. Sicuramente anche dal punto di vista mentale e psicologico ha il suo peso. Vediamo qua 4-4-2. Con Varane facciamo una rapida analisi della squadra. Ronaldo Totti, Varane speciale. Walker anche lui. Tavernier. Ora non l'ha seguito bene però. Un'ottima squadra. Vediamo quindi come continuerà a gestire il pallone. Con Gulli. Non l'ho nominato. Però il Tavernier me lo so segnato. Era quello dell'altra squadra. Qua c'è Quadrato. E Bruno Fernandes. In coppia con Ronaldo Totti c'è invece Neymar. Che immagino è quello base. Non credo che già l'ha comprato. Però non l'ho visto bene. Un po' troppo velocemente di sfuggire. Qua quindi solida azione di possesso palla. Può svariare da una fascia all'altra. Palla al terzino. Poi verticalizzazione all'attaccante. Che comunque torna indietro. Ancora palla a Ronaldo. Che una volta arrivato al limite dell'aria viene chiuso perfettamente da Renato. Credo sia Renato. Non lo so. Vabbè comunque qua. Prende campo con Adama Traoré sulla fascia sinistra. Anche se è un mediano. Ricordiamo. Imbucata pazzesca per Mbappé. Qua Ederson. Esce. Guardate la faccia di Blechi. Completamente sorpreso. Forse lo era anche la mia. Non lo so. Dopo mi li vedrò. Però Ederson salva tutto. Qua incredibile. Qua la lucidità di usare il secondo giocatore selezionato. Con L3 e R3. E però non si concretizza anche questo. Con nulla di fatto ancora. Se ne va sulla fascia. Il terzino. Palla al centro per Cristiano Ronaldo. Che di testa la tira centralmente. E Ederson para. Qua Neymar. Contropiede. Quindi stava gestendo ma non troppo. E quando c'ha la verticalizzazione la fa spesso e volentieri. Maestro vorrebbe chiuderla su D0. Per zittire qualsiasi discorso di rimonta. Andiamo a vedere qui. Rashford sulla fascia sinistra. Palla ancora al centro. Un po' stesso palla. Comunque ragionato. Se la cammina in campo. Senza troppa fretta. Suola. Verticalizzazione. Poi. Doppio passo. Ma un gol pazzesco. Questo un doppio passo al contrario. Non so neanche come si chiama. Quello comunque all'interno. E poi un reverse elastico. Di una lucidità pazzesca. Di Cristiano Ronaldo Totti. Che a questo punto direi che chiude qualsiasi discorso. 2 a 0. In finale. Con un uomo in più. E diventa molto molto dura. Per il giocatore dell'Ipsia. Andiamo a vedere quindi qui Mbappé. Cristiano Ronaldo. Ancora palla per il fenomeno. R9. Renato Sanchez. E qui è dura. Perché Maestro difende molto bene. Anche comunque il fattore psicologico dalla sua. Invece vediamo. Sucuk. Intento proprio a forzare. Perché un tiro a giro da là. Raramente si concretizza con un gol. Anche se era R9. Cambio di gioco molto semplice. Ancora vediamo. Palla Ronaldo. E poi se la gestisce. Piano piano. Mendy poi. Verticalizzazione per Rashford. Ma comunque. Con calma. Si gira. Torna indietro. Prende ancora campo con Mendy. Poi Rashford. Riesce anche ad entrare dentro l'area. Batte. Il difensore. E qua. Passa a Neymar. Che si divore clamorosamente. Il gol del 3 a 0. Ma qui. Non si capisce bene. Che era successo. Perché il difensore era cascato a terra. Così. All'improvviso. Andiamo a vedere qui. Comunque. Non sta giocando più bene. Guarda come esce. Col difensore centrale. Anche se era fuori gioco. Gli la passa addirittura. A Ronaldo. Qua. Mi fa molto piacere. Vedere questi errori. Dai pro. Perché sono gli stessi. Che faccio io. Dopo una sconfitta in VL. Cioè. Se voi. M'avete visto. Qualcuno di voi. In live. Giocare dopo una sconfitta. Esattamente. Mi sembro. Suciuk. Che. Inizia a passare la palla. All'avversario. Verticalizzazioni. A manetta. Tiri da fuori. Quindi fa molto piacere. Che anche loro. Quando tiltano. È palesemente tiltato. In questo momento. Suciuk. E sta. Giocando. Diciamo. Malino. Se mi posso permettere di dirlo. Però. Va anche detto. Che. Se tilta uno. Di questo livello. Contro. Un top player. Come maestro. Comunque. Sta sotto. Di due gol. Non sotto. Di 5 o 6. Come capita a me. Contro. Questo tipo di avversari. E quindi. Tanto di cappello. A suciuk. Qua. Ancora. Un cambio di gioco. Di quadrato. Palla a gugli. Se la gestisce. Qua. Ormai. La partita. Ha veramente. Poco contenuto. Qua. Paramba. Completamente a vuoto. Ancora. Un passaggio. Non so bene. Come si chiama. Questo. Questa. Gancia giocatore. Che non è molto usato. Però. Si vede proprio. Che maestro. L'ha. Ben. Masterato. Se posso copiare. Un'espressione. Del nostro amico. Non è il nostro amico. Però. Del. Dello youtuber. Che seguo sempre. Molto volentieri. Ribera. Victoria. Vediamo. Che cosa si inventa. Suciuk. Per l'assalto finale. Sotto di un uomo. E sotto i due gol. Mette Carrasco. Addirittura. E poi. Butta via il pallone. Carrasco. Ed Eurofeu. Oddio. Sono gli stessi cambi. Che ho io. Quindi. Non credo. Che gli faranno la differenza. A lui. Con tutto il rispetto. L'Eurofeu. C.O.C. Penso. Sta improvvisando. Un rombo. Senza C.D.C. Così. A occhio. Infatti. Prende un contropiede. Con. Ancora. Rashford. Che. Con l'aggancio. Il giocatore. Prova un po'. A. A fare. Dei cose. Un po'. Strane. Diciamo. Che quando poteva. Semplicemente. Crossare. Qua la palla. Con. Un rimpallo. Gli arriva. A. Cristiano Ronaldo. Con un altro. Reverso elastico. Chiude il discorso. Arriva. Addirittura. Il quit. Dell'avversario. 3 a 0. In finale. Con quit. Partita. Dominata. Però. Bisogna mettere. Decisa. Da. Un'espulsione. Quindi. Ho perso. I miei 50. Banana points. Non so. Si chiamano così. Però. Vedo continuamente. Qua le banane. Che. Appaiono. Nello schermo. Per i nuovi follower. Spero. Che questo tipo. Di video. Sia piaciuto. Ora. Magari. Mi piacerebbe portare in futuro. Berryang. Perché è veramente. L'uomo non del momento. Anzi. Niamo. Il ragazzo. Perché comunque. C'ha 14 anni. Non è il ragazzo del momento. Ma proprio il ragazzo dell'anno. Visto che sta vincendo. Black Cup. Su Black Cup. E partite di Poole Champions. Su partite su Poole Champions. Però. Anche questa partita. È stata. Molto. Molto. Interessante. Ora. Si vede finalmente. La faccia di Maestro. Che ha vinto comunque. Un discreto. Gruzzolino. Di soldi. Andiamo a vedere. Questo bellissimo gol. Ce lo fa rivedere. C'è anche. Addirittura. Una finta di corpo. Forse. Quella con. Con R1. Vediamo un po'. Eh. E poi con il reverse. Trova lo spazio per il tiro. E. Fare. Il 2 a 0. Molto. Molto. Bello. Io direi. Che per questo episodio. È tutto. Vi ringrazio per la visione. Iscrivetevi al canale. Mettete mi piace. E. Scusate per la faccia. Ma. Sono vedrete di notte. E non sono abituato. Buonanotte.